adesso voglio esporre il seguente concetto accade a volte che talune fanciulle comprese tra i confini dei 9 e 14 anni rivelino a certi ammaliati viaggiatori i quali hanno due volte o molte volte la loro età la propria vera natura che non è umana ma di ninfa e cioè demoniaca e intendo disegnare queste elette creature col nome di ninfette si noterà che sostituisco i termini spaziali con termini temporali vorrei effettivamente che il lettore vedesse 9 e 14 come i contorni di spiagge di specchio scogli rosati di un'isola incantata racchiusa in un vasto mare brumoso infestata dalle mie ninfette ma entro questi confini tutte le fanciulle sono forse ninfette certo che no se così fosse noi iniziati noi viandanti solitari noi ninfolettici saremmo impazziti da tempo neppure la bellezza è un criterio valido e la volgarità o almeno ciò che una determinata comunità definisce tale non nuoce necessariamente a certe misteriose caratteristiche la grazia arcana il fascino elusivo mutevole insidioso e straziante che distingue la ninfetta da tante sue coetanee incomparabilmente più vincolate al mondo spaziale dei fenomeni sincroni che non a quell'isola immateriale dal tempo stregato in cui l'olita si trastulla con le sue simili entro questi limiti d'età il novelo delle vere ninfette è straordinariamente inferiore a quello delle ragazzine essenzialmente umane che siano in via provvisoria bruttine o appena simpatiche o dei tipi o addirittura graziose o carine ma pur sempre creature ordinarie pingui senza forma con la pelle fredda la panza e i codini e indipendentemente dal fatto che queste possano o meno più avanti trasformarsi in donne adulte di grande bellezza guardate quei grassi anatroccoli in calze nere e cappello bianco che dopo la metamorfosi si mutano in stupende dive del cinema se mostrate a un uomo normale la foto di un gruppo di scolare o di giovani esploratrici e gli chiedete di indicare la bambina più bella non è detto che egli scelga la ninfetta bisogna essere artisti e pazzi creature di infinita melanconia con una bolla di veleno ardente nei lombi e una fiamma iper voluttuosa perennemente accesa nella sensitiva spina dorsale o quanto bisogna dissimulare farsi piccoli per discernere a prima vista grazie a segnali ineffabili il profilo impercettibilmente felino di uno zigomo la snellezza di una gamba appena velata di lanugine e altri indizi che la disperazione e la vergogna e le lacrime di tenerezza mi vietano di enumerare il micidiale diavoletto tra le brave bambine e lei non ravvisata dalle sue compagne posa tra loro a sua volta ignara del suo fantastico potere inoltre poiché il concetto di tempo ha in questa faccenda un ruolo così magico il ricercatore non dovrebbe stupirsi nell'apprendere che tra la vergine e l'uomo affinché costui possa cadere vittima della malia deve esserci un divario di diversi anni mai meno di dieci direi generalmente 30 o 40 e in alcuni casi conosciuti addirittura 90 è questione di adattamento focale di una determinata distanza che l'occhio interiore anela a sormontare ed un certo contrasto che la mente percepisce con un sussulto di perverso godimento quando io ero fanciullo e lei una fanciulla la mia piccola annabelle non era per me una ninfetta io ero un suo pari un faunetto a pieno titolo su quella stessa incantata isola di tempo ma oggi nel settembre del 1952 29 anni dopo credo di poter discernere in lei l'iniziale funesto folletto della mia esistenza ci amavamo di un amore prematuro segnato da quella ferocia che così spesso distrugge le vite degli adulti io ero un ragazzo forte e sopravvissi ma il veleno rimase nella ferita la ferita non si rimarginò più e presto mi trovai a maturare in una società che consente a un uomo di 25 anni di corteggiare una ragazza di 16 ma non una di 12 non c'è dunque da meravigliarsi se la mia vita di adulto durante il periodo europeo si rivelò di una mostruosa duplicità esteriormente avevo rapporti cosiddetti normali con un certo numero di donne terrene i cui segni erano zucche o pere ma dentro ma ero consumato da un infernale fornace di specifica di scivia per ogni ninfetta di passaggio che pure da bravo pusillanime rispettoso della legge non osavo mai avvicinare le femmine umane di cui ero autorizzato a usufruire erano semplici palliativi le sensazioni che mi derivavano dalla naturale fornicazione sono pronto a crederlo erano più o meno le stesse che i normali maschi adulti sperimentano nell'accoppiarsi con le loro normali compagni adulte nella ritmica routine che scuota il mondo il problema era che quei signori non avevano mai intravisto neppure il barlume e io sì invece di una beatitudine incomparabilmente più intensa la più insulsa delle mie polluzioni notturne eclissava di gran lunga tutti gli adulteri di cui potrebbe fantasticare il più virile scrittore di genio o il più inventivo degli impotenti il mio mondo era spaccato in due avevo coscienza non di uno ma di due sessi nessuno dei quali era il mio l'anatomista li definirebbe entrambi femminili ma i miei occhi attraverso il prisma dei miei sensi erano come il giorno e la notte adesso so spiegarmi razionalmente tutto questo ma a venti o trent'anni non capivo il mio tormento con tanta lucidità mentre il mio corpo sapeva per che cosa spasimava la mia mente respingeva ogni suo appello ero a tratti spaventato e pieno di vergogna a tratti pervaso da un temerario ottimismo i tabù mi strangolavano i psicanalisti mi corteggiavano cianciando di pseudo liberazioni di pseudo libido il fatto che l'unico oggetto dei miei fremiti amorosi fossero le sorelle di annabel le sue ancelle le sue damigelle d'onore mi appariva talvolta come un presagio di follia in altri momenti mi dicevo che era solo questione di punti di vista che andar matto per le ragazzine non aveva nulla di riprovevole lasciate che ricordi al mio lettore che in inghilterra con l'approvazione nel 1933 della legge per la protezione dell'infanzia col termine fanciulla si definisce una giovinetta che abbia più di 8 e meno di 14 anni dopo questa età tra i 14 e i 17 diventano ufficialmente ragazze d'altro canto nel Massachusetts USA le bambine traviate sono tecnicamente comparse tra i 7 e i 17 anni e in più frequentano abitualmente persone dissolute o immorali Hug Broughton un controverso scrittore vissuto durante il regno di Giacomo I ha dimostrato che Rab faceva la prostituta a 10 anni tutto questo è molto interessante e già mi vedrete con la bava alla bocca in preda ad uno dei miei attacchi ma no non è vero sto solo facendo saltare qualche pulce variopinta nel suo piattino ora vi fornirò qualche altra immagine Virgilio che le ninfette solia cantare in un sol tono ma probabilmente preferiva il perineo di un ragazzino e due impuberi fanciulle del Nilo figlie del re Cnaton e della regina Nefertiti la coppia regale aveva una nidiata di sei rampolli vestite soltanto di numerose collane di perline colorate adagiate sui cuscini intatte dopo 3000 anni coi soffici bruniti corpicini di cucciole i capelli corti e i lunghi occhi d'ebano e certe spose decenni costrette a sedersi sul fascinum lavoro virile nei templi della cultura classica in certe province delle indie orientali il matrimonio e il concubinaggio prima della pubertà sono ancora piuttosto comuni tra le paca i vecchi di 80 anni copulano con le bambine di otto e nessuno se ne dà pensiero dopo tutto Dante si innamorò pazzamente della sua Beatrice quando lei aveva nove anni una fanciulla radiosa imbellettata e adorna di gioielli adorabile nella sua veste cremici e questo accadeva nel 1274 a Firenze durante un banchetto nel lieto mese di maggio e quando Petrarca si innamorò pazzamente della sua lauretta ella era una bionda l'infetta dodicenne che correva nel vento nel polline e nella polvere un fiore in volo sulla splendida pianura che si scorge dalle colline di Valchiusa ma basta comportiamoci con decoro e civiltà Amber Amber si è sforzato in tutti i modi di fare il bravo dico sul serio lui aveva il massimo rispetto per le bambine normali con la loro purezza e vulnerabilità e in nessunissimo caso avrebbe attentato all'innocenza di una fanciulla se ci fosse stato il minimo rischio di uno scandalo ma come batteva il suo cuore quando in mezzo a quella schiera innocente e gli scorseva una bambina demoniaca enfant charmant e furbe sguardo velato labbra lustre dieci anni di galera se solo le mostri che la stai guardando così procedeva la vita Amber era perfettamente in grado di fare l'amore con Eva ma concupiva Lilith nella sequenza di mutamenti somatici che accompagnano le pubescenza la fase di sboccio nello sviluppo del seno comincia presto anni dieci virgola sette e il successivo indizio riscontrabile di maturazione è la prima comparsa di peli pigmentati sul pube anni undici virgola due il mio piattino tra bocca di fisce un naufragio un atollo solo con la figlioletta scossa dai brividi di un passeggero annegato ma tesoro è solo un gioco mi è meravigliosa avventura inventate mentre sedevo su una dura panchina fingendomi immerso nella lettura di un tremulo libro intorno al tranquillo erudito le ninfette giocavano liberamente come se egli fosse una statua familiare o parte delle ombre del luccichio di un albero vetusto una volta una perfetta piccola bellezza dal vestito scozzese mi appoggiò accanto con fragore il piede pesantemente bardato e poi mi affondò dentro le esili braccia nude mentre stringeva la cinghia del pattino a rotelle e io mi dissolsi nel sole col libro per foglia di fico mentre i riccioli ramati le ricadevano sul ginocchio sbucciato e l'ombra delle foglie che dividevo con lei pulsava e si scioglieva sulla sua gamba luminosa vicino alla mia guancia di camaleonte un'altra volta una scolara dai capelli rossi si protese sopra di me sul metro e la rivelazione di una scella fulva mi rimase nel sangue per settimane potrei elencare una lunga serie di queste avventure minuscole unilaterali alcune di esse sfumavano in un penetrante aroma d'inferno notavo per esempio dal balcone una finestra illuminata e quella che sembrava una ninfetta nell'atto di spogliarsi davanti a uno specchio connivente così isolata così remota la visione acquistava un fascino particolarmente intenso che mi precipitava a tutta velocità verso la mia solitaria soddisfazione ma di colpo con diabolica perversione la tenera nuda sagoma che avevo adorato si trasformava nel disgustoso braccio nudo illuminato da una lampadina di un uomo in cannottiera che accanto alla finestra leggeva il giornale nella calda sera estiva umida e senza speranza gioco del mondo salto della corda quella vecchia vestita di nero che mi si sedette accanto sulla panchina sulla mia gioiosa ruota di tortura una ninfetta cercava a tastoni sotto di me una biglia smarrita e mi chiese se avevo mal di pancia l'insolente befana lasciatemi in pace nel mio parco pubescente nel mio muschioso giardino lasciate che giochino per sempre intorno a me che non crescano mai a proposito mi sono domandato spesso che ne sia stato poi di quelle fanciulle in questo mondo di ferro battuto con le sue griglie di cause di effetti incrociati è mai possibile che il recondito palpito che carpivo alle mie ninfette non abbia influito sul loro futuro io l'avevo posseduta e lei non l'ha mai saputo d'accordo ma non si sarebbe visto più avanti trascinando la sua immagine nella mia voluptas non avevo in qualche modo manomesso il suo destino questi interrogativi erano e rimangono la fonte di una grande terribile curiosità imparai tuttavia a riconoscerle da grandi quelle adorabili sconvolgenti in infette dalle esili braccia ricordo un grigio pomeriggio di primavera vicino alla madeleine camminavo in una via animata e una ragazza piccola e snella mi passò accanto con passi rapidi agile sui tacchi alti ci voltammo nello stesso momento lei si fermò e la abbordai mi arrivava a stento ai peli del petto e aveva quel musino rotondo con le fossette così tipico delle ragazze francesi mi piacevano le sue lunghe cilia e il corpo giovane che sotto la guaina del taier grigio perla serbava ancora ed ecco la ninfica ecco il brivido di gioia e il sussulto dei miei lombi un qualcosa di infantile frammisto al fretto il man professionale dello svelto sederino e chiesi quanto voleva e lei rispose prontamente con melodiosa argentina precisione un uccellino un vero uccellino sant tentai di contrattare ma lei vide lo spaventevole solitario struggimento nei miei occhi abbassati in verticale verso la sua fronte rotonda e il rudimentale capellino una fascia un mazzolino di fiori e con un battito delle ciglia tampis disse e fece per andarsene soltanto tre anni prima forse avrei potuto vederla mentre tornava a casa da scuola quella vocazione bastò a decidermi mi condusse su per le solite rampe ripide col solito campanello che sgombrava il campo al messier il quale forse non gradiva incontrare un altro messier nella mesta ascesa fino a quella stanza miserabile tutta letto e bidet come al solito mi chiese subito il suo petit cadeau e come al solito io le chiese il nome monique e l'età 18 le trite abitudini delle passeggiatrici mi erano piuttosto familiari rispondono tutte di suite un nizio d'ocinquettio una nota risoluta la nostalgica bugia che emettono fino a dieci volte al giorno povere creature ma nel caso di monique non c'era dubbio che si fosse semmai aggiunta a un anno o due lo dedussi da molti particolari del suo corpo lindo sodo e curiosamente immaturo dopo essersi svestita con ammaliante rapidità rimase per un istante parzialmente avvolta nella sudicia mussola della tenda ascoltando con appropriato piacere infantile un organetto nel cortile sottostante già colmo del crepuscolo quando esaminai le sue manine e le feci notare che aveva le unghie sporche disse con ingenuo cipiglio e si avvicinò al catino ma io soggiunsi che non importava non importava affatto con i corti capelli castani gli occhi grigi e luminosi e la pelle diafana era assolutamente incantevole i suoi fianchi non erano più larghi di quelli di un ragazzino accosciato e in verità non esito a dirlo per questo indugio riconoscente in quella stanza grigio mussola della memoria con la piccola monique tra le circa 80 grue che avevano esercitato su di me la loro professione lei era stata l'unica a darmi uno spasimo di autentico piacere a vuoi